Ciao amici, oggi facciamo i peperoni appunticati. Iniziamo! Allora amici, si riferanno peperoni, pomodori, bengattato, pezzamolo, formaggio, origano, sale e base di ceppolina. Prima cosa amici, lavate i peperoni e tagliate li sal, 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 sal. Quando li avete tagliati a metà li mettete un po' di sal e un po' di olio. Finito, lavare il sal. Adesso mettiamo in fondo. Adesso mettiamo in una ciotola i pomodori tagliati a pezzi. Allora mettiamo in fondo. Va beh, questo lo vado. L'ultimo! L'ultimo, l'ultimo. Buon bimbi! Poi se mettiamo in pan grassato... ... tutto. Il prezzemolo, il pamigano, un pezzettino, la cipollina, il sale, il filino e l'origano. Adesso aggiungiamo tutto, ho fatto un guai amici, io so solo fare guai, ma non lo so, questo lo faccio a sempre. Quando i peperoni sono cotti ci mettiamo questo dentro. Lo faccio, così, così. O, o, o. O, o, o. O, o, o. 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 O, o.